Fanghi da depurazione per utilizzi agricoli. Abbiamo presentato un atto che chiede una moratoria a fronte di tutto quello che è successo nella Toscana centrale dove fanghi da depurazione che poi si sono rilevati inquinati sono stati distribuiti nei territori fertili della nostra regione. Chiediamo subito una moratoria e che le aziende gestori del servizio idrico integrato paghino a loro spese le analisi su questi tipi di fanghi per avere la certezza che non siano fanghi contaminati e che quindi possiamo in qualche modo utilizzarli anche per l'agricoltura.